Gentili telespettatori, buona giornata. Aprendo Twitter oggi, ho lì un account su Twitter, vedo che Saviano ha fatto un video dove parla, perché fino adesso non aveva parlato, era stato muto, parla di quel famoso saluto fatto alla celebrazione del 2 giugno a Roma durante la parata della festa del 2 giugno, dove Saviano e Murgia hanno visto un saluto romano che non lo era e hanno visto i reparti della marina dire il motto decima e lui ha subito detto questa è la decima mass, quelli che si sono macchiati di crimini, sono quelli del decimo raggruppamento motoscafi d'assalto della Repubblica Sociale Italiana, la XMAS, decima mass, mass acronimo di motoscafi d'assalto. Bene, quindi Saviano e Murgia hanno visto cose, hanno visto cose non reali, perché quel saluto che loro hanno visto non è un saluto, ma è un saluto alla tribuna d'onore, quindi è un saluto a sinistra, con la mano perpendicolare così. Quindi su quello. Poi Saviano in questo video dice attenzione che noi, lui e la Murgia, hanno fatto una interpretazione semantica dell'accaduto. Vi sono visto tutto il video di 12 minuti. Lui dice sul saluto romano, non ha detto niente perché lì è stato sbugiardato totalmente, però poi dice, attenzione, che quella felicità strabordante che aveva la russa, che sembrava che avesse vinto la lotteria di Capodanno, quella felicità, quel vittoria, quegli applausi, la russa era esaltatissima in questa parata militare, soprattutto quando sono passati quelli della marina, quindi gli incursori del Consubin, che hanno gridato il loro motto decima. È un po' come se passano quelli della Folgore, che gridano Folgore. Non so, sono dei motti, no? Lui dice, noi, io e la Murgia, abbiamo fatto un collegamento semantico. Cos'è sto collegamento semantico? Allora, secondo Saviano, dice, la marina hanno tutti spiegato che la decima di origine della regia marina è stata fino al 1943, dal 1943 in poi questa decima si è divuisa nella decima mass di il principe borghese nella Repubblica Sociale, poi quella che è rimasta fedele al re, che poi il re è scappato, all'Italia, all'Italia, con gli alleati. Lui dice questo, non puoi nel 2023 gridare decima, perché la mente è alla decima mass, non importa che fino al 1943 poi si è divisa, perché fino al 1943 ha combattuto nella seconda guerra mondiale questa decima per il governo fascista. Allora, io vorrei dire questo a Roberto Saviano e alla sua interpretazione semantica. Lui dice, il consubim non dovrebbe dire più decima, ma dovrebbe dire un'altra parola che poi era quella che contraddistingueva queste persone, questi militari dopo il 1943 rimasti con lo Stato italiano e gli alleati. Quindi, non avrebbero dovuto dire più decima, ma un'altra parola che identificava quelli che non erano andati con la Repubblica Sociale. volevo dire questo dopo essermi visto tutti i dodici minuti del video di Saviano. Tutti i reparti che sono sfilati il 2 giugno, i bersaglieri, la folgore, i carabinieri, la forza aerea, l'aeronautica, l'esercito, i reparti speciali, tutti, 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 anche le crocerossine, quelle della croce rossa, tutti, tutti, questi che ho nominato hanno combattuto la seconda guerra mondiale sotto il governo fascista. Lì, non è che potevi scegliere, lì, combattevi per il governo fascista o combattevi o combattevi, non è che avevi scelta, quindi, Saviano dice non colpevolizziamo le persone che non avevano scelta, ma lì c'era uno Stato che ha scelto. Bene. Ma, se dovessimo seguire il ragionamento di Saviano, oggi la folgore non dovrebbe chiamarsi folgore, non dovrebbe gridare folgore, perché c'era anche durante la seconda guerra mondiale. Oggi non dovrebbero esserci più militari in Italia, perché il nostro esercito, la marina, l'aviazione, i carabinieri, hanno tutti combattuto per lo Stato fascista. Allora, oggi alla parata militare non dovrebbe passare più nessuno, non dovrebbe esserci l'esercito, perché l'esercito, la marina, insomma, tutto quello che vi ho detto, è colpevole, sono colpevoli di essere i discendenti di quell'esercito che prima aveva combattuto per il governo fascista. Quindi, secondo Saviano, questo com sub in dovrebbe non più dire decima, ma dovrebbe dire un'altra parola, perché quel decima ricorda, ricorda la decima massa. E allora, anche quelli della folgore, che dicono folgore, ricordano la folgore che ha combattuto nella seconda guerra mondiale. i carabinieri non dovrebbero più chiamarsi carabinieri perché c'erano durante la seconda guerra mondiale. L'esercito italiano non dobbiamo più chiamarlo esercito italiano, lì era il regio esercito, dobbiamo chiamarlo cippalippa. L'aviazione militare dobbiamo chiamarla in un altro modo perché loro sono i discendenti di quelli che hanno combattuto. Quindi, caro Saviano, se cancelliamo il com sub in con il suo motto decima, dovremmo cancellare anche la folgore con il suo motto folgore e tutti gli altri reparti e divisioni dell'esercito. E poi Saviano dice beh, insomma, la russa era felicissimo di vedere questi che passavano e dicevano decima perché già qualche anno prima come ministro era andato in una riunione della marina e aveva detto proprio a questi voi siete i discendenti della decima massa. quindi la russa era felice come un bambino quando ha visto passare questi che gridavano decima lui gli ha fatto vittoria. Allora, quello che vi ho detto prima è una cosa sulla russa che era euforico perché passavano questi che gridavano decima che lui si ricordava la decima massa della Repubblica Sociale è uno che c'era il busto a casa del dittatore tutto nero quindi su questo potrebbe anche essere anzi molto probabilmente il buon la russa era felicissimo quando ha visto passare quelli che gridavano decima perché magari lui si è con la mente ha visto un'altra cosa questo è possibile è possibile anche molto probabile però l'arrampicata sugli specchi di Saviano sulla semantica e che questi hanno combattuto tutto l'esercito ha combattuto nella seconda guerra mondiale allora cosa facciamo cancelliamo le forze armate dall'Italia perché hanno combattuto nella seconda guerra mondiale no arrivederci a tutti e grazie